Continua a Teramo la querella legata alla gestione dello stadio Bonolis. Dopo le accuse di ieri lanciate da Franco Iachini, titolare della Soleia, la società che ha la gestione della struttura di Piano Daccio, è arrivata la replica del sindaco di Teramo, Gian Guido d'Alberto. Il comune è stato aggredito da Soleia, da Iachini, perché il procedimento arbitrale è stato presentato da Soleia e il comune si sta interloquendo all'interno dell'arbitrato. Ieri ho sentito anche delle cose che non sono vere, mai è stata presentata, mai è stata formulata una proposta per far giocare o allenare la squadra di calcio Teramana all'interno del Bonolis gratuitamente. Assolutamente mai fatta una proposta del genere, anzi le richieste nostre all'interno della procedura arbitrale, ma più in generale l'interlocuzione di questi anni muoveva proprio da questa esigenza. Cioè che il Bonolis, ovviamente all'interno di una concessione, anche superando degli errori che sono stati fatti nel 2006-2008, tornasse ad essere quello che deve essere, cioè la casa del calcio Teramano. Per il sindaco le dichiarazioni di Iachini rappresentano l'ennesimo tentativo del gestore dello stadio Bonolis di far passare per un gesto di cortese concessione alla squadra di calcio il suo unico traguardo, e cioè fare ancora più business sull'impianto e allungare il più possibile la gestione che al momento scadrà nel 2041. Noi all'interno dell'arbitrato abbiamo sempre messo in campo un confronto, come giusto che sia, ma abbiamo chiesto che si rispettasse pienamente quello che il Dipe, cioè il Dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica, qui abbiamo chiesto congiuntamente un parere sul PEF che quello che dice il Dipe debba essere assolutamente seguito puntualmente in modo corretto, perché noi tuteliamo l'interesse pubblico nel dialogo, nel rispetto dell'interesse privato, ma l'interesse pubblico che deve essere sempre prevalente, perché parliamo di una struttura che è di proprietà comunale, affidata in gestione, ma di proprietà comunale.